L'argomento è il sorpasso e cominciamo a vedere la definizione che trovate anche nei quiz, cioè sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo, un animale o un pedone in movimento o fermo sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione. Ora, con la parola sorpasso dei quiz troverete indicate tre modi diversi, tre manovre diverse di sorpasso, cioè il sorpasso vero e proprio come lo intendiamo noi con due cambi di corsia, lo scorrimento quando si marcia per file parallele, quando è consentita la marcia per file parallele di cui si parla in un video dedicato alla posizione dei veicoli sulla carreggiata, cioè la mano da tenere, che poi sarebbe la destra da noi in Italia, però adesso naturalmente ve lo riprendo come concetto, è l'affiancamento. Cominciamo con il primo, il sorpasso vero e proprio. Praticamente noi siamo dietro al veicolo che vogliamo sorpassare e decidiamo di sorpassarlo, quindi dobbiamo spostarci. Generalmente il sorpasso si fa a sinistra, quindi parleremo di spostamento a sinistra, quindi cambiamo, chiamiamolo così per renderci le cose più facili da capire, cambiamo corsia, da destra ci spostiamo sulla corsia di sinistra o che dir si voglia semicarreggiata, dipende da quante corsie abbiamo su quella carreggiata, superiamo il veicolo che vogliamo sorpassare e poi dobbiamo rientrare necessariamente a destra perché dopo il sorpasso bisogna sempre rientrare a destra e quindi abbiamo due cambi di corsia, uno spostamento da destra a sinistra e poi un spostamento di nuovo da sinistra a destra. Però abbiamo ancora altre due modalità che sono sempre chiamate con la parola sorpasso nei quiz, cioè lo scorrimento. Quando noi marciamo per file parallele, per esempio in caso di traffico intenso, se nel nostro senso di marcia abbiamo più di una corsia possiamo marciare per file parallele su qualunque tipo di strada urbana, esturbana, autostrada eccetera. Questo perché se c'è diciamo così un traffico intenso, rimanendo tutti sulla corsia di destra incolonnati, chiaramente si allunga troppo la fila, rimangono delle corsie liberi inutilmente. Quindi ognuno praticamente impegna la corsia che gli serve di più in quel momento e in quella corsia marcerà incolonnato a tutti gli altri chi è davanti e scorrerà marciando alla velocità di quella corsia come se fosse su un binario e quindi nel caso in cui la nostra corsia sia più veloce, si vada più veloce che sulle corsie vicine, chiaramente noi supereremo i veicoli che marciano nelle corsie vicine e quindi faremo un sorpasso per scorrimento senza cambio di corsia però. E quindi non abbiamo diciamo lo spostamento di prima da una corsia all'altra. Il terzo caso che viene sempre chiamato sorpasso nei quiz, ecco perché io vi spiego queste tre modalità affinché siano ben chiare, è l'affiancamento, cioè quando io arrivo per esempio a un passaggio a livello, a una zona dove c'è magari qualche motivo di ostacolo per cui i veicoli si attestano perché c'è magari dei lavori in corso eccetera, oppure al semaforo rosso, nei casi in cui sia consentito, cioè senza sconfinare nel senso opposto di marcia, posso affiancarmi sulla sinistra del veicolo che ho davanti. Quindi è come se facessi una mezza manovra di sorpasso, cioè mi sposto da destra a sinistra, affianco questo veicolo e poi aspetto che le barriere si alzino del passaggio a livello, essendo custodito si può fare, oppure che il semaforo ritorni a segnalare con la luce verde di potere proseguire e così via. E questi sono i tre, diciamo così, modi di intendere il sorpasso che troverete nei quiz. Poi abbiamo invece come si fa questa manovra del sorpasso, cioè le modalità del sorpasso che sono due. Anche qui non ci sono dei quiz che chiedono di interpretare queste due modalità, però le si dà per sottinteso. Quindi troverete dei quiz dove si parla di fare il sorpasso usando la nostra velocità oppure usando la ripresa del motore. Adesso vi spiego tutte e due le cose. Innanzitutto cerchiamo di capire che cosa vuol dire sorpasso in velocità, sorpasso in ripresa. Il sorpasso in velocità vuol dire che io sto viaggiando a una certa velocità e arrivo dietro, quindi io vado più veloce di quello che ho davanti, arrivo dietro di lui, per esempio un ciclomotore, una bicicletta e siccome questo che ho davanti è molto più lento di me, io non ho bisogno di accelerare per sorpassarlo. Mantengo la mia velocità, al massimo mi sposterò dalla parte di sinistra normalmente per sorpassarlo e lo sorpasso mantenendo la mia velocità, cioè non cambio praticamente nulla, non devo accelerare. Quindi si verifica quando io ho già la velocità necessaria per fare la manovra del sorpasso perché quello davanti è più lento di me. Si chiama sorpasso in ripresa perché rispetto all'altro in velocità io marcio dietro un altro veicolo che ho davanti e voglio sorpassarlo, quindi essendo dietro io viaggio alla sua stessa velocità, però per sorpassarlo dovrò aumentare notevolmente la velocità mia. Quindi devo per sorpassarlo sfruttare la capacità di ripresa del mio motore. La capacità di ripresa si esprime in questi termini, cioè è la capacità del motore di raggiungere la massima velocità nel minor tempo possibile, cioè la capacità di sviluppare un'accelerazione. Quindi più il mio motore è prestante, facciamo l'esempio di una 500 e di una Ferrari, la capacità di ripresa della 500 è notevolmente minore della capacità di ripresa della Ferrari. Cioè praticamente, tanto per dire, una volta quando facevano le pubblicità dei veicoli dicevano, per arrivare alla massima potenza del motore, alla massima velocità, da 0 a 30 secondi. Faccio un esempio così a capocchia, da 0 a 30 secondi riesco a raggiungere per esempio i, non so, 180 km all'ora. E questa è la capacità di ripresa. Se invece non li raggiungo in 30 secondi, li raggiungo in 40 o 50, vuol dire che la ripresa del mio motore è molto minore perché ci metto più tempo. Quindi più ho capacità di ripresa rapida e naturalmente più faccio il sorpasso in tempi brevi e quindi accorcio il pericolo, la pericolosità, il tempo e lo spazio per completarlo. Però dobbiamo fare i conti con la fisica perché la ripresa del motore è inversamente proporzionale alla velocità e questo vale anche per la Ferrari, non solo per la 500. Cioè quando io parto da 0 di velocità ho la massima capacità di ripresa, cioè di accelerazione per raggiungere poi la massima velocità. Ma mano a mano che io accelero, cioè porto il motore ai regimi di massima potenza, quindi dal minimo al massimo, la mia capacità di ripresa si riduce, quindi è inversamente proporzionale. Mano a mano che accelero, cioè che vado verso il massimo della possibilità, diciamo così, della potenza del motore, più tempo ci metto ad accelerare. Cioè la mia riserva di ripresa, mano a mano che aumento la velocità, si accorcia. E quindi sono due lancette che, diciamo così, vanno in senso inverso. Aumento la velocità, la ripresa diminuisce. Non posso avere mai la massima ripresa con la massima velocità. Quando arrivo, mettiamo che il mio veicolo arrivi, non so, al massimo della velocità, della potenza del motore a 180 all'ora, quando io sono a 170, per riuscire a raggiungere i 180 facendo un salto di 10 km all'ora, ci metto molto più tempo che partendo da zero per arrivare a 10 km all'ora. Perché la mia ripresa partendo da zero è massima, mentre quando sono vicino al regime di potenza massima è minima. Non so se mi sono spiegato a sufficienza. Quindi, tenendo conto di questa cosa e chiaramente valutando che tipo di veicolo sto guidando, perché è chiaro che se guido una 500 non è una Ferrari, devo comunque fare i conti per capire quanto io posso sviluppare di velocità nel mio tempo possibile col motore che sto guidando. Va bene. Naturalmente, in questo caso, in ogni caso, qualunque veicolo stia guidando, il sorpasso di ripresa è comunque più, diciamo, difficile di quello in velocità. Perché io la velocità, diciamo, maggiore, quindi l'aumento di velocità, lo posso sviluppare solo quando io sono spostato dal veicolo che voglio sorpassare. Cioè, non posso accelerare quando gli sono ancora dietro. Devo prima spostarmi e quindi, essendo già spostato, parlando di strade a due sole corsie a doppio senso, io sto invadendo il senso di marcia. Quindi, la ripresa la devo sfruttare tutta andando contro mano nel senso opposto. Ecco perché il sorpasso di ripresa su questi tipi di strade è più pericoloso. Perché purtroppo impiega molto più spazio che non quello in velocità. Perché, appunto, io devo sfruttare questo spazio solo quando mi sono già spostato sulla sinistra. Andiamo avanti a questo punto e vediamo gli accertamenti preliminari al sorpasso. Prima di effettuare un sorpasso, devo assicurarmi che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che questa manovra si possa compiere senza essere di intraccio pericolo, né per me, né per gli altri quello che sorpasso o altri che stiano arrivando in senso contrario. Parliamo soprattutto di queste carreggiate, diciamo, strade a carreggiata unica con due sole corsie. Una è la mia corsia di marcia e l'altra è quella del senso contrario. Quindi io devo spostarmi nel senso contrario di marcia per fare il sorpasso. Ora, la visibilità deve essere ovviamente superiore allo spazio che io ho bisogno per completare la manovra. cioè, in poche parole, non posso iniziare una manovra di sorpasso vicino a una curva e completarla appena all'imbocco della curva, perché potrebbe sbucare in senso contrario un altro veicolo. Quindi devo avere una visibilità notevolmente maggiore dello spazio che mi serve per completare la manovra di sorpasso. Procediamo e andiamo al secondo punto. Cioè, lo spazio libero sufficiente. Anche qua dobbiamo fermarci un attimo per capire che cos'è. Quindi, assicurarsi che la strada sia libera, sia in larghezza, sia in lunghezza, per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto conto della differenza tra la mia velocità e quella del veicolo che voglio sorpassare, nonché della presenza di altri veicoli che possono stare per arrivare, e quindi siano magari anche in vista, nella direzione contraria o che precedono quello che io voglio sorpassare. Magari io voglio sorpassare un primo veicolo, poi lui davanti ne ha un altro, quindi devo fare il conto di poterli eventualmente sorpassare tutti e due, di avere lo spazio libero sufficiente. E fermiamoci a spiegare cos'è lo spazio libero di cui si parla nei quiz. Lo spazio libero, innanzitutto, non è uno spazio fisso, è uno spazio variabile. È quello che mi serve per completare tutta la manovra in sicurezza, e varia a secondo della strada su cui io mi trovo, cioè se ho una strada a senso unico dove ci sono solo io nel mio senso di marcia, non c'è il senso di marcia opposto, oppure una strada con almeno due o più corsie per il mio senso, quindi io sto nel mio senso per fare la manovra perché ho le corsie di sorpasso nel mio senso, oppure sono su una strada a carreggiate separate, quindi la mia carreggiata con le corsie, diciamo, di marcia e di sorpasso è separata dallo spartitraffico rispetto alla carreggiata del senso opposto, allora in questo caso lo spazio libero che mi serve è solo quello che percorre il mio veicolo per finire la manovra, perché non ho niente a che fare con gli eventuali veicoli che vengono in senso contrario o che addirittura non ci sono se la strada è a senso unico. Se invece io sono su una strada con solo due corsie a doppio senso di marcia questa strada, allora io avrò a destra la corsia mia di marcia, a sinistra la corsia di marcia del senso opposto che purtroppo io devo sfruttare per sorpassare, quindi per sorpassare sono costretto a invadere il senso opposto portandomi sulla corsia del senso contrario. La cosa comincia a diventare più pericolosa, cioè devo valutare se vengono o non vengono veicoli dal senso contrario, se non ne vengono naturalmente c'è meno problema, magari sono su un lungo rettilineo, facciamo conto, diciamo così, della situazione più comoda, sono su un lungo rettilineo con una visibilità diretta di tutto il rettilineo, magari ho un chilometro di strada libero, non viene nessuno in senso opposto, vabbè, quindi non ho grossi problemi. Ma se arriva qualcuno in senso contrario, io sto invadendo il suo senso di marcia, non è vietato sorpassare un veicolo se ne arriva un altro in senso opposto, purché io riesca a calcolare, di completare il sorpasso senza rischio per nessuno dei tre, né per me, né per quello che voglio sorpassare, né per quello che arriva in senso contrario, perché io sto andando contro mano nella sua corsia di marcia. Quindi, in questo caso diventa più complicata la cosa, perché io devo valutare bene a che distanza è questo veicolo che viene in senso opposto, che tipo di veicolo è e quindi che velocità potrebbe avere, se è una bicicletta, un ciclomotore, insomma, non è che possono andare a più di tanti chilometri all'ora. Se invece è un veicolo tipo autovettura, allora sappiamo che può sviluppare una velocità notevole. E allora dovrò ben calcolare che siamo in movimento tutti e due, uno contro l'altro, cioè io sono sulla sua corsia, gli vado incontro, lui viene incontro a me, ci avviciniamo. Io devo riuscire a calcolare bene lo spazio che percorrerò io per finire la manovra di sorpasso, lo spazio che percorrerà lui mentre io sono su questa corsia per fare il sorpasso. Quindi sono due spazi, diciamo così, che sono in avvicinamento, quindi non siamo fermi, e vanno calcolati con molta precisione. Tenendo conto che noi abbiamo una visuale in prospettiva, dal basso, cioè noi non siamo su un elicottero, vediamo la strada dall'alto in pianta e quindi vediamo molto bene le esatte misure degli spazi. In prospettiva dobbiamo tenere conto che la prospettiva sfalsa le distanze e di questo ci rendiamo conto perché, per esempio, quando noi abbiamo ai lati della strada un filare di alberi vediamo che gli alberi in lontananza diventano sempre man mano più piccoli. Quindi io ho una percezione delle distanze che è sfalsata dalla prospettiva. Ecco perché nel dubbio, soprattutto magari all'inizio quando uno non ha ancora una grande capacità di valutare le distanze, le proprie capacità, diciamo così, di fare il sorpasso, nel dubbio aspetto e rinuncio quando la strada sarà libera o più libera comunque. Poi abbiamo il terzo, diciamo, il terzo fattore da considerare che è quello di assicurarsi che il conducente che ci precede non abbia segnalato di voler compiere la stessa manovra o che nessuno che ci segue abbia segnalato di voler compiere la stessa manovra. Cioè non possiamo spostarci in due per fare la manovra di un sorpasso di un altro veicolo. Se no ci scontriamo. Quindi bisogna aspettare in questo caso che quell'altro che abbiamo o davanti oppure di dietro si sposti per fare la stessa manovra. Quando si è spostato, va bene, siamo sicuri che si è spostato, più di così non si sposterà e quindi quando siamo sicuri possiamo spostarci poi anche noi. Naturalmente quando si tratta del conducente che ci segue dobbiamo prima di effettuare la manovra sempre guardare gli specchi retrovisori, quello interno e quello di sinistra. Poi è ovvio che si debba anche vedere che non esistano dei segnali di divieto presenti sulla strada riferiti alla nostra categoria di vieto di sorpasso e che non ci siano delle condizioni che vedremo tra poco di situazioni che di per sé vietano il sorpasso perché sarebbero pericolose. Per esempio in vicinanza di una curva, sul tratto in salita di un dosso, eccetera, eccetera. Vediamo adesso le varie fasi, come dei fotogrammi, diciamo delle istantanee, ok? Dunque innanzitutto mi porto, questa è una strada a doppio senso, a due corsie, quindi questo veicolo rosso siamo noi, dobbiamo sorpassare il veicolo blu, questo è un veicolo che appena passato va in senso opposto sulla corsia che tra poco io dovrò impegnare. Si è liberata, diciamo così, la visuale, non ho più nessuno che viene in senso contrario e quindi mi porto dietro questo veicolo che voglio sorpassare a una distanza che non deve essere mai inferiore a quella minima di sicurezza che mi consenta comunque di non tamponarlo se questo fa per esempio una frenata brusca per qualche motivo. Dopodiché, avendo accertato che ci siano tutte le condizioni che abbiamo detto prima, accendo l'indicatore di direzione, nel nostro caso è il sinistro, perché normalmente il sorpasso si fa a sinistra, poi vedremo che ci sono dei casi in cui si può e si deve fare solo a destra, per segnalare agli altri che ho l'intenzione di spostarmi di corsia. Fuori dai centri abitati, se lo ritengo opportuno, posso segnalare col clacson al veicolo che voglio sorpassare la mia intenzione di sorpassarlo. Questa è una buona cosa, specialmente in autostrada, quando vogliamo sorpassare dei veicoli grossi tipo TIR, autotreni, autoticolati, eccetera, che spesso, insomma, non sono propriamente ligi al dovere e quindi magari potrebbero poi spostarsi anche loro senza segnalare per voler fare il sorpasso dalla corsia di destra, per sorpassare magari un altro che hanno davanti. Lo si capisce di solito perché quando marciano senza intenzione di sorpassarsi tengono una buona distanza, quando quello dietro vuole sorpassare quello davanti comincia ad andargli proprio molto vicino per poi dopo sfruttare, insomma, il minore spazio possibile perché questi non possono spostarsi più che sulla seconda corsia. Sto parlando naturalmente dell'autostrada. Quindi attenzione, fatevi venire questo sesto senso perché in questo caso qua per avvisare è sempre meglio usare il clacson se non ho la certezza che questo veicolo grosso non voglia spostarsi anche lui per fare il sorpasso di un altro che ha davanti. Torniamo però alla nostra strada a due corsie. Quindi se lo ritengo opportuno, non è obbligatorio, posso suonare il clacson fuori dai centri abitati perché non è vietato, anzi è uno dei casi in cui lo posso fare e mi sposto e mi sposto, e siamo a questa terza fase, sulla corsia di sorpasso e spengo gli indicatori di direzione perché non servono più. Ormai mi sono spostato l'indicatore, lo devo accendere prima di spostarmi e lo spengo quando ho finito di spostarmi, cioè ho impegnato la corsia di sorpasso. Non serve più, quindi quelli che lo tengono acceso sbagliano perché non possono spostarsi più in là di così, più a sinistra ancora. Perché ci siamo fermati diciamo un attimo in questa posizione? Perché questa posizione è molto brutta. Come vedete e come troverete nel video dedicato alla visibilità gli specchi retrovisori, siamo nella posizione laterale posteriore sinistra rispetto al conducente che vogliamo sorpassare e come vedete i suoi specchietti non ci stanno inquadrando. Cioè non ci vede più negli specchi perché siamo spostati completamente a sinistra, ma non ci vede nemmeno direttamente perché siamo fuori dalla visuale diretta laterale sinistra. Quindi questa è una brutta posizione. Bisogna accelerare rapidamente e portarsi a fianco il più presto possibile perché se questo non si è accorto che lo stiamo sorpassando e per caso si sposta ci viene contro. Quindi posizione che si chiama angolo morto o angolo cieco. Naturalmente c'è sia quello di sinistra sia quello di destra per i casi in cui, come vedremo, si potrà sorpassare a destra. Affianchiamo questo veicolo e teniamo da lui una distanza di sicurezza in funzione della grandezza dei due veicoli e delle reciproche velocità. Ricordatevi che quando sorpassate un veicolo più piccolo di voi, per esempio un ciclomotore o una bicicletta, siete voi che creerete uno spostamento d'aria che potrà essere pericoloso per lui. Se invece sorpassate un veicolo di grandi dimensioni come un autotreno, un auto articolato o un autobus, allora è lui che crea uno spostamento d'aria che sarà pericoloso per voi che lo sorpassate. Cioè in vicinanza della parte anteriore l'aria naturalmente si divide in due e quindi crea uno spostamento d'aria che essendo molto più grande di noi, una massa molto più grande, una superficie di impatto, divide l'aria in due e abbiamo, diciamo così, un effetto di spostamento d'aria verso sinistra che investe la nostra fiancata del veicolo. Questo quando naturalmente noi sorpassiamo un veicolo molto più grande. del nostro. Questo ve lo dico soprattutto quando viaggiate in autostrada. Quindi la distanza laterale di sicurezza dovete calcolarla in funzione della larghezza della carreggiata, della velocità che avete e della massa. Più alta la velocità e più lo spostamento d'aria ovviamente è maggiore. A questo punto sorpassiamo, cioè superiamo, sopravanziamo questo veicolo, è il momento di ritornare a destra. Dobbiamo ritornare a destra, ma prima di ritornare a destra dobbiamo guardare lo specchio retrovisore interno. Quando questo veicolo è interamente inquadrato lo abbiamo a sufficienza distanziato, cioè l'abbiamo lasciato dietro di noi una distanza di sicurezza sufficiente per non tagliargli la strada mentre noi ritorniamo a destra. A questo punto dobbiamo accendere l'indicatore di direzione destro obbligatoriamente e poi, perché gli facciamo capire che vogliamo orientare a destra, e poi dopo averlo distanziato a sufficienza ricambiamo la corsia da sinistra e ritorniamo a destra. Quindi bisogna evitare in modo assoluto di stringere o tagliare la strada al veicolo sorpassato. Ricordatevi che se avete il rimorchio attaccato dietro, il vostro veicolo è più lungo, dovete distanziarlo maggiormente questo veicolo, se no col rimorchio li andate addosso. Ok? E anche perché in questo caso quando c'è la strada bagnata per pioggia, eccetera, non gli spruzzate tutto l'acqua fanghigliosa, diciamo così, carica di particelle sporche sul parabrezza, perché se lo avete distanziato, insomma questo effetto di spruzzo sul parabrezza viene notevolmente ridotto. Ok? Passiamo agli obblighi del veicolo sorpassato. Deve agevolare in ogni caso la manovra e non accelerare e sulle strade come questa a due sole corsia a doppio senso deve stare il più vicino possibile al margine destro della carreggiata. Soprattutto non deve accelerare perché se no si configura un reato a carattere penale, cioè gareggiare in velocità, che è questo, che è molto grave. Cioè se lui aumenta la velocità mentre lo sorpassiamo, ovviamente io non riesco a finire il sorpasso e ci mettiamo a rischio di vita tutte e due. Va bene, io direi che abbiamo detto le cose fondamentali, andiamo a vedere il sorpasso a destra, cioè i casi in cui si può sorpassare solo a destra. Primo caso, quando il conducente che vogliamo sorpassare all'intersezione ha segnalato di volere svoltare a sinistra, lo possiamo sorpassare solo a destra con prudenza. Secondo caso, quando siamo su una carreggiata a senso unico e il conducente che abbiamo davanti segnala di volersi fermare, accostare o fare una sosta sul margine sinistro, lo possiamo sorpassare solo a destra. E poi ancora, quando vogliamo sorpassare un tram che viaggia al centro della carreggiata, lo sorpassiamo a destra perché se no andremo contromano sui binari del tram che viene in senso contrario, naturalmente, purché la larghezza della carreggiata lo consenta. Se invece il tram viaggia a destra, cioè i binari del tram sono vicini al margine destro, allora lo dobbiamo sorpassare sulla sinistra senza invadere il senso opposto di marcia. passiamo ora ai casi in cui il sorpasso è vietato. Quando c'è il segnale di divieto di sorpasso, che adesso non sto a spiegarvi perché l'abbiamo visto nel video relativo ai segnali di divieto, questo vale naturalmente per tutte le categorie in questo caso, mentre il divieto di sorpasso qua vale solo per i veicoli di massa a pieno carico complessiva superiore a 3,5 tonnellate non destinati al trasporto di persone. Anche questo è però riferito solo a certe categorie di veicoli. Poi andiamo avanti e vediamo altri casi in cui è vietato in prossimità, cioè in vicinanza e in corrispondenza delle intersezioni, cioè degli incroci, chiamiamoli più colloquialmente così incroci come trovate nei quiz, perché se l'intersezione non è regolata, quindi questa non ha nel vigile e nel semaforo, non possiamo limitarci a vicenda alla visibilità, cioè io limito la visibilità, io sono questo rosso, limito la visibilità a sinistra al blu e lui me la limita a destra a me, quindi non possiamo sorpassare affiancandoci dove abbiamo bisogno di avere la migliore visibilità a sinistra, a destra all'intersezione. È però consentito il sorpasso in questo caso all'intersezione quando il veicolo che si vuole sorpassare ha segnalato che intende svoltare a sinistra come abbiamo visto prima. quando siamo su una strada col diritto di precedenza purché sia due carreggiate separate o a senso unico con almeno due corsie per il nostro senso di marcia con le corsie delimitate dalla segnalitica orizzontale. Quando vogliamo sorpassare un veicolo a due ruote senza motore però non possiamo sconfinare nel senso opposto di marcia ed è sempre consentito quando la circolazione è regolata da semafori gli oggetti del traffico quindi quando l'intersezione è semaforizzata o c'è il vigile allora in quel caso si può sorpassare anche vicino all'intersezione o durante l'attraversamento. Andiamo avanti altro caso è vietato il sorpasso in prossimità e in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere per lo stesso motivo che abbiamo visto prima per le intersezioni per non limitarsi la visibilità a vicenda a meno che la circolazione non sia regolata da semafori si intende semafori a tre luci non le luci del passaggio a livello. È vietato sulle corsie di accelerazione ed accelerazione cioè quelle che consentono l'immissione su una carreggiata tipo autostrada oppure la uscita l'uscita da una carreggiata tipo quella dell'autostrada quando il conducente questo l'abbiamo visto prima che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata o sulla corsia immediatamente alla propria sinistra abbia segnalato l'intenzione di voler compiere la stessa manovra non possiamo spostarci in due quindi devo aspettare che questo si sia spostato e abbia già diciamo così occupato questa corsia sia già diciamo progredito nella marcia allora poi posso spostarmi anch'io oppure il conducente che precede in questo caso io sono questo rosso ne ho uno davanti che vuol fare la stessa manovra non possiamo spostarci in due quindi prima lascio spostare lui quando lui ha occupato la corsia di sorpasso poi mi sposto anch'io e farò anch'io il mio diciamo spostamento e superamento in terza posizione quando è necessario spostarsi nella carreggiata nella parte di carreggiata quindi questa destinata al semi al senso opposto di marcia quindi la mia semicarreggiata è questa l'altra semicarreggiata del senso opposto è questa anche se c'è la striscia discontinua non posso sorpassare in terza posizione quindi lo posso fare quando io ho tutte le corsie di sorpasso nel mio senso di marcia cioè sulla mia carreggiata per esempio abbiamo una strada dove abbiamo tre corsie nel nostro senso e le altre tre nel senso opposto oppure abbiamo una strada a carreggiate separate dallo spartitraffico ma in questo caso la carreggiata è unica quindi la striscia discontinua di mezzeria la posso superare in seconda posizione ma non la posso superare in terza posizione ok poi quando i veicoli che precedono sono fermi o in lento movimento ai passaggi a livello ai semafori o altre cause di congestione della circolazione per esempio c'è coda o un incidente stradale e questo l'abbiamo detto prima se a tal fine sia necessario spostarsi anche solo con le ruote di sinistra nel senso opposto di marcia in poche parole c'è il semaforo rosso io vorrei affiancarmi a questo veicolo ma non ho lo spazio se fossi un motociclo lo potrei fare perché sono più stretto ma con l'autovettura no quindi sconfinerei con le ruote di sinistra nel senso opposto non posso devo stare dietro se invece guido un veicolo più piccolo allora se ci sto mi posso affiancare perché c'è l'intersezione semaforizzata oppure con il vigie è il caso che abbiamo detto prima dove per sorpasso si intende la manovra di affiancamento cioè una mezza manovra di sorpasso solo lo spostamento con l'affiancamento è vietato il sorpasso a destra di tram o filobus fermi per la salita e discesa dei viaggiatori se non esiste il salvagente devo aspettare che chiudano le portiere perché se no rischio di investire i passeggeri che salgono o scendono quando il veicolo che diciamo ho davanti si è arrestato o ha rallentato per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata anche fuori dagli attraversamenti pedonali se si può circolare per file parallele tutte le file parallele devono arrestarsi cioè non è che quello della prima fila si arresta poi quello dell'altra fila va avanti investe il pedone tutti gli altri che circolano diciamo le altre file parallele affiancate devono fermarsi anche loro quando un veicolo si è arrestato per dare la precedenza ad altri veicoli per esempio se questo si è arrestato perché vuole far uscire il blu da un'autorimessa da un passo carrabile eccetera io non posso sorpassarlo devo fermarmi anch'io ok perché se no io vado contro il veicolo che sta uscendo magari davanti c'è coda insomma questo gentilmente si è fermato per farlo uscire devo fermarmi anch'io poi è vietato in prossimità e in corrispondenza delle curve sempre su strade a doppio senso dove sono le corsie qui addirittura le corsie non sono segnate sulla in corrispondenza e in prossimità dei dossi quindi non si può finché non si arriva sul tratto in discesa dove ho buona visibilità quindi il problema qui è la visibilità in ogni altro caso di scarsa visibilità per esempio foschia nebbia pioggia fitta neve fitta e così via quindi quando non ho la visibilità sufficiente non posso fare il sorpasso devo aspettare che abbia buona visibilità però naturalmente questo sorpasso lo potrò fare soltanto quando la strada è a due carreggiate separate o con più corsie per il mio senso di marcia per esempio almeno due o a senso unico perché in questo caso non ho il problema dei veicoli che potrebbero venire in senso contrario e quindi posso sorpassare anche in questi casi cioè in curva sulla salita del dosso e nei casi di scarsa visibilità perché non c'è pericolo che qualcuno arrivi in senso opposto e io gli vada contro se la carreggiata o semi carreggiata sono suddivise in più corsie il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare ok esempio autostrada tre corsie quattro corsie voglio sorpassare uno che marcia davanti a me sulla prima corsia devo occupare la corsia di sorpasso più libera che in questo caso è quella immediatamente alla mia sinistra cioè la seconda corsia non è che vado sulla terza o sulla quarta se non c'è una necessità ok vediamo se c'è qualche altra cosa ora sorpassare più veicoli è consentito facciamo l'esempio dell'autostrada che è più chiaro dunque se io viaggio in autostrada la norma è sempre la stessa cioè la corsia di marcia è solo una quella di destra tutte le altre sono di sorpasso e quindi le posso impegnare solo per il sorpasso e quindi dopo devo ritornare a destra ora questa norma del rientrare a destra dopo avere finito il sorpasso va interpretata elasticamente dal conducente cioè è chiaro che se io ho una fila di autotreni che vanno molto più lenti e non è che io sorpasso il primo poi ritorno dentro fra uno e l'altro a destra poi ritorno fuori a sinistra sorpasso il secondo poi ritorno e sorpasso il terzo eccetera perché sarebbe più pericoloso cioè io posso stare sulla corsia di sorpasso sorpassando una fila di veicoli molto più lenti di me però a un certo punto poi quando la corsia di destra sarà libera dovrò orientare a destra quindi non c'è stabilito dal codice della strada un numero minimo massimo di veicoli che io posso sorpassare rimanendo sulla corsia di sorpasso certo è che non devo diciamo così limitare la possibilità di sorpasso agli altri veicoli più veloci di me e quindi stare sulla corsia di sorpasso se altri più veloci di me dietro di me stanno impegnando la stessa corsia dovrò riportarmi a destra per lasciarli defluire ok ok